La pioggia ha portato un insperato beneficio. Siamo a inizio marzo e i due invasi piacentini, la diga del Molato in Valtidone e la diga di Mignano in Valdarda, sono già al loro massimo livello consentito. Nel Molato ci sono circa 7 milioni di metri cubi di acqua, a Mignano circa 9 milioni di metri cubi. Un miracolo se si pensa alla crisi degli ultimi anni. Nel 2023 il Molato di questi tempi era praticamente asciutto. Per quanto riguarda la diga del Molato era da tre anni che speravamo e aspettavamo questo momento, addirittura l'anno scorso siamo partiti in stagione irrigua con il 40% del volume autorizzato, quindi era davvero in secca e per superire, fa bisogno dell'irrigazione, utilizziamo delle pompe da Po e pompiamo a monte l'acqua per distribuire gli agricoltori. Prelevare l'acqua dal fiume Po ha però costi altissimi che nel 2022 si sono tramutati in oltre un milione di euro in più che gli agricoltori hanno dovuto pagare. Per gli agricoltori che hanno sostenuto allora quel costo ci sono anche buone notizie rispetto alla riduzione eventuale dei costi in campagna. Anche i torrenti hanno avuto un grande beneficio. Il Tidone da qualche anno non si vedeva e devo dire oggi la portata è interessante. Alla portata a Valle della Diga ricordo sempre che si deve aggiungere quella dei torrenti, in particolare Tidoncello e Chiarone che in molti casi contribuiscono a riempire il Tidone qua a Valle. I due invasi gestiti dal Consorzio di Bonifica agiscono anche come regolatori. L'acqua in eccesso viene trattenuta a monte per evitare pericolose piene a Valle.